Le vorrei parlare della guerra per conquistare l'anima di Los Angeles. E ora noi la stiamo cedendo a un misero boss della costa est. Questa città è di Mickey Cohen, lei non può cambiare niente da queste parti, sergente. Mai sentito dal Manifesto Destino è quando ti prendi quello che puoi, quando puoi. E io mi prenderò tutto da te, Jack, e non solo perché posso, ma perché questo è il mio destino. Los Angeles è il mio bastardo destino. Benvenuti nella Gangster Squad. Questo è il primo grande film di gangster per la nuova generazione. Io sono il futuro. Volevo partecipare a questo film perché mi ha veramente ispirato. Questa non è un'ondata di crimine, è un'occupazione nemica. Il film è la storia di un gangster, Mickey Cohen, che domina Los Angeles e dei poliziotti che devono incriminarlo. Al ritorno dalla guerra, questi uomini trovano che Cohen ha distrutto l'onore della loro città. Botana e droga sono tutte in mano nostra. Entro un mese avrò tutta la costa ovest impacchettata e col fiocco. C'è una tale corruzione che si trovano circondati da persone compiacenti. Nessuno testimonierà mai. Sarebbe un suicidio. Sai dove te la devi ficcare quella, Mickey? Decidono di non volere più restare soltanto a guardare. E quindi prendono in mano la situazione. Ho bisogno che organizzi una vera guerriglia contro Mickey e Cohen. Mi servono uomini. Dei recluti. John O'Mara è l'uomo disposto a farsi avanti e a mettere in gioco la propria vita per il bene della città. Sto mettendo insieme una squadra. La ascolto. Una piccola squadra. Cinque o sei persone al massimo. Sono stati selezionati per le loro particolari capacità individuali. Sono complementari fra loro. Mi serve uno che spara. Ma non mi dica. Guarda caso ne conosco uno. Non sarete sui rapporti. Non vi sarà permesso fare arresti. Devo fermare Mickey Cohen. Non mi sembra giusto che lui abbia così tanto e gli altri così poco. La cosa interessante di Jerry è che è innamorato di una donna che ha una relazione con Mickey Cohen. Salve, ci serve qualcosa. Vogliamo solo parlare con lei. Ehi, ho un messaggio del signor Cohen. A me sembra che la signorina non voglia parlare con voi. Beh, a te ci pensiamo dopo. Quindi ha delle ragioni personali per partecipare. Grace e Waters sono due persone sole che trovano qualcosa l'uno nell'altra. È stato bello avere quel partner, quel compagno di squadra. Perché Waters è interpretato da Ryan. Ci ha voluto un bel gruppo di uomini abbastanza coraggiosi per andare contro Cohen. Niente medaglie, niente promozioni. Quando vinceremo nessuno saprà mai cosa abbiamo fatto. Ma sono qui per dirvi che la morte aspetta l'uomo che esiterà. Perché Cohen non esiterà a uccidere ognuno di voi, è sicuro. Quindi in questa squadra c'è una sola regola da rispettare. Lasciate questi a casa. Entrano subito in gioco con Cohen al suo livello e lo affrontano di petto. Qui non stiamo risolvendo un caso. Stiamo andando in guerra. Sono uomini che hanno lavorato in incognito e in segreto. Si sono mossi e hanno ottenuto molto. Ma in un modo brutale. È una storia di riscatto. Signor Cohen, qualcuno ci ha fregato il carico. Mi dispiace. Chi è stato a rubarlo? La Gangster Squad quindi si impegna a salvare ciò che più ama. Los Angeles. Per chi lavorate voi? Per quella. Noi lavoriamo per quella. Trova quei bastardi. Ammazzali. Mi piace sparare a Gangster nelle gambe come più degli altri. Ma se continuiamo ad attaccare a testa bassa non dureremo più di una settimana. I confini fra il bene e il male si confondono. Mi può ricordare la differenza che c'è fra noi e loro? È l'unico modo che abbiamo per battere Cohen. L'unico modo. Non puoi spararmi. Sei un poliziotto. Non più ormai. Devono comportarsi più da Gangster che da Poliziotti per poter sconfiggere i Gangster. Perché non mi hai detto che sei uno sperro? Perché ti sto proteggendo. Sono Poliziotti. Finiamo il lavoro. Io non ho impegni stasera. Ho amato Il Padrino e Gli Intoccabili. E questo film penso sia in quel filone. Attento, George! Trasporta i film di Gangster a un livello più alto. D'accordo, Cohen. Tempo scaduto. Finchia di puttana! Uno sbirro non in vendita è come un cane con la rabbia. Devi per forza abbatterlo. Gangster Squad Al cinema